Prefetto, quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi a feriti, dispersi e decessi delle ultime ore? Il decesso non è mutato, è un solo decesso, una donna, anche abbastanza giovane. I dispersi dovrebbero essere 11, però stiamo puntualmente verificando anche sul posto. Gli sfollati dovrebbero essere intorno ai 126, ma tutti troveranno sistemazione alberghiera. Stiamo convincendo anche le ultime persone che vorrebbero rimanere nelle loro case a dislocarsi presso le strutture alberghiere. Perché c'è una resistenza a lasciare le case? Voi sapete che in alcuni casi qualcuno, già in occasione del terremoto, ebbe un po' di difficoltà ad allontanarsi dalla propria abitazione. Quindi siamo, in particolare l'amministrazione comunale di Casamicciola, convincendo tutti a spostarsi. Prefetto, una lunga notte difficile, continueranno le operazioni? Il CCS è in seduta permanente, continueranno le operazioni, anche con strumenti e mezzi. Come avete visto, è presente la Protezione Civile Nazionale, che ci auguriamo ci possa consentire di effettuare qualche altro ritrovamento. La famiglia col bambino, col neonato, data per dispersa, poi è stato annunciato il ritrovamento, ora dispersa. Guardi, stiamo verificando con attenzione con l'amministrazione comunale, perché appunto le notizie molto spesso in questa confusione arrivano certe volte, in alcuni casi, però a momenti dovremo avere conferme. Avete anche notizie ulteriori sulle condizioni meteo, perché continuerete questa notte ad operare, al momento, in una situazione estremamente critica. Ci sarà un miglioramento e quindi si riuscirà a lavorare anche meglio? Guardi, in CCS la Protezione Civile Nazionale ha fatto proiettare un po' quelle che sono le proiezioni del tempo. Pare che dovrebbero migliorare, ma noi continueremo a operare anche in queste condizioni. Sono arrivati mezzi e strumenti che ci consentirebbero di operare anche stanotte.